Quindi dobbiamo allontanarci e accamparci per la prima notte, smetti di ammazzare la povera... Ma la porta presso Ma perché? Ma che schifo, appoggiala! No, sai perché? Perché se si avvicina a qualcun altro io gli faccio guarda, ne ho già ammazzato uno di voi Ok, va bene Quindi, cioè, stai attento perché siamo persone pericolose E allora portatela a braccetta e andiamo un giro per la foresta Stai ferma, stai ferma Che è successo? Allora, io non ti voglio far panicare ma hai dietro di te un pelato che ti si sta avvicinando tanto E' tipo a 5 metri da te in questo momento E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E quest'oggi inizieremo una nuova serie con The Forest E anche oggi, prima di iniziare, andiamo a salutare i nostri 3 eroi del giorno Che quest'oggi sono Minecraft 3.0 Loremaster 500 e Super Yoshi Gamer MC Ciao ragazzi Grazie per la condivisione Questo filmato è il mio incubo peggiore E io te lo dico, guarda, la cosa più brutta che mi potrebbe capitare è cadere con un aereo Già, odio andare in aereo, cioè, è terribile Mi mette un'ansia assurda E se l'aereo cadesse in un oceano profondo dove ci sono tanti pesci? Di odio Perché so che è l'altra cosa che ti piace tanto Fare in mezzo ai pesci, è un'altra delle mie cose preferite Soprattutto di notte, col buio più profondo Guarda, se proprio dovesse cadere un aereo, vedi, in questo caso non vorrei neanche sopravvivere in un isola deserta Preferirei farla finita lì, comunque è terribile L'informazione è molto utile Comunque qua abbiamo un bambino Un bel Timmy che dorme Un Timmy che dorme E c'è un bellissimo, guarda, questo è un bellissimo libro I suoi disegni sono, che cos'è? Una guida di sopravvivenza, non so perché È per Timmy Cioè, vedi, ha portato sfiga Perché io dico, tu gli dai una guida di sopravvivenza e poi l'aereo casca Non è una bella cosa Non è minimamente una bella cosa Iniziamo a versi un po' l'aereo Oddio, oddio casca Casca giù Guarda Timmy, poveri Ma Timmy non si tiene È sballattato da una parte all'altra Sbattendo la testa due ore come non si sa cosa È già morto, Timmy È morto, è morto, è morto Per forza Addio Attenzione Uh Chi cavolo è questo qua? È Iron Man Ma che è Iron Man? Ci sta finalmente portando via nostro figlio Uh, bello Ma dovresti volerlo difendere Iron Man, lascia il nostro figlio Perché era di quel colore, scusate? Perché era così rosso? Secondo me Sto cercando di destramatizzare Perché sto gioco mi fa una paura incredibile Te lo dico Quindi Ci hanno rubato Timmy No, vedi La cosa positiva è che almeno non devi badare un figlio Mentre sei nell'isola E sai Con i suoi vizi Sarebbe stato davvero davvero pesante Hai ragione Oh mio Dio che brutto che sei Anche tu Mi sa che siamo fratelli gemelli Gemelli Gemellini Allora Siamo messi malissimo Stiamo morendo di fame Siamo tutti rotti dalla caduta Quindi direi che la prima cosa che facciamo È recuperare il cibo che abbiamo intorno E cerchiamo di sfamarci un pochettino Perfetto Prendo tutto quello che trovo C'è un po' di roba E non è male Vedo sia roba da mangiare Che cibo È la stessa cosa Roba da bere Almeno prendiamo il cibo di tutti i passeggeri Che puoi ti farei notare una cosa Sì Che oltre Timmy Sono scomparse anche tutti i passeggeri Vieni fatti a vedere qua Perché mi sa che c'è una lista C'è qualcosa di strano Aspetta Ma questa Fammela vedere un secondo Ok Che cos'è? Oddio è una lista dei passeggeri Ok Perché è per forza una lista dei passeggeri Perché ci sono dei cognomi E anche le lettere Dei posti Riesci a leggerla mentre la guardo io? Più o meno Vedo soltanto che c'è un tipo sottolineato Che si chiama Blank Volevo dirti quello Ma secondo te siamo noi Che siamo sottolineati C'è qualcosa di strano Oppure dobbiamo cercare Qualche personaggio particolare Dipende Non lo so Comunque c'è scritto anche 0 su 45 Cosa vorrà dire? Che sarà Pensavo fosse il nostro posto Ma no Effettivamente non lo è Non lo so Iniziamo ad avere già i primi misteri Rimettiti a posto Credo che te devi portare via No 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 Aspetta No non la voglio più tenere in mano Non riesco a farlo Non siamo neanche atterrati Che ci sono già un sacco di misteri Quindi io direi Di guardarci un pochettino intorno Perché non mi piace Ok Non mi piace l'Iron Man Che ci ha preso Timmy Quindi Ho paura che magari Adesso verremo attaccati Prendi il più possibile Non hai paura per Timmy No hai paura che veniamo attaccati noi Ho paura per noi Timmy ormai è andato Cioè l'hanno preso Che ci puoi fare Scusa Allora non pensiamo per la nostra incolumità Ma dobbiamo cercare di recuperarlo Povero Timmy Perché ci tieni così tanto Perché l'ha portato via un Iron Man Cioè Boh Poverino Pensavo se avessero preso a te E nessuno ti Sarebbe venuto ad aiutarti Ma magari Vieni un attimo Sì Cos'è questa cosa Non lo so Oh mio Dio Che cos'è È la faccia di qualcuno Appesa E tirata pure Questa è una schifezza incredibile Aspetta che la spacchiamo Ok Mi prende anche i materiali Ma ti puoi prendere poi la testa Eh sì Ma la testa non la voglio Sinceramente Io la prendo Io la lascio lì mi sa Non si sa mai Capito La possiamo mettere per spaventare Gli indigeni di questo posto No stai ferma Che è successo Allora Io non ti voglio far panicare Ma hai dietro di te Un pelato che ti si sta avvicinando Tanto È tipo a 5 metri da te In questo momento Sono due Sono due E si stanno avvicinando Oh mio Dio Oh mio Dio Fa troppo schifo Aiuto Perché mi deve capitare questo Sembrano gollum Del signore degli anelli Ma a me fa troppa paura Sta gioco Io non ce la faccio Aiuto Non ho incerbiato Madonna Ok si avvicinano ancora Attenta Ma perché si stanno avvicinando Aiuto Aiuto È dietro qua Dobbiamo picchiarla Ma fa schifo Attenta Dov'è Dov'è È velocissima Ma perché ci stanno disturbando È super forte Massacrala Oddio Cosa volevi fare Eh Cosa volevi fare Abbiamo uccisa Sì attenta che ce n'è ancora un altro Questa è la Dietro di te Dietro di te Ma perché sono sempre dietro di me Porca miseria Ok Perché Lo vedi Sì Secondo me ha paura E vedi che sta scappando È perché ha visto che abbiamo ammazzato l'altra Siamo troppo forti Quindi giustamente ha paura Quello che ti volevo far vedere Guarda Cosa hai di fronte Lo so che fa un po' paura Però Ma siamo matti? Non so cosa sia Ma c'è un burrone gigantesco No c'è un buco nero Cioè che È stato Iron Man a fare anche questo Allora Allora Sì Non siamo neanche arrivati Che è pieno di cose troppo strane A me sta cosa non piace Ci sta urlando contro Arriva Allora smettila Aiutami Ok Noi siamo appena arrivati Volevamo farci i fatti nostri Quindi ci devi lasciare in pace Io te lo dico Ok Perché siamo capitati in quest'isola Perché Manco arrivati abbiamo già dovuto ammazzare due persone Due indigeni Due mostri Perché non sono persone Insomma Hai visti come si muove Sono sempre esseri umani Non vorrei dire Non ne siamo sicuri di questo Ok Tu non ne sei sicuro che siano esseri umani A me sono sembrati esseri umani Non cercare di rigirare la cosa In ogni caso Abbiamo bisogno di accamparci Possibilmente lontano da qua Dato che Ci hanno già trovato due indigeni Quindi dobbiamo allontanarci E accamparci per la prima notte Smetti di ammazzare La povera Ma porta presto Ma perché Ma che schifo Appoggiala No sai perché Perché se si avvicina a qualcun altro Io gli faccio guarda Ne ho già ammazzato uno di voi Ok Va bene Stai attento Perché siamo persone pericolose Allora portate la braccetta E andiamo un giro per la foresta Comunque io lì giù vedo il mare Ecco anche la spiaggia Direi che la spiaggia È un punto Aspetta C'è una casa C'è un villaggio C'è un villaggio Noi volevamo farci Il nostro accampamento Alla spiaggia Perché pensavamo fosse Il punto migliore Invece troviamo Un villaggio Hanno già avuto La nostra stessa idea Gli indigeni Quindi vedi Pensiamo come gli indigeni Questa è una dimostrazione Che sono degli esseri umani Allora Non voglio assolutamente Vedere cosa c'è in quel villaggio Sto pensando Se magari Seguiamo la spiaggia E ci allontaniamo Che dici? Anche se stare qui in zona Non è molto Molto bello Magari andiamo Dopo la roccia Dopo la montagna Brava Brava Anche se poi È pieno di queste loro Sculture Sì Perché secondo me È il loro territorio Ci sono le bande Di indigeni E segnano Il loro territorio Hanno terineato Il territorio della serie Qui non ti devi avvicinare E noi non ci avviciniamo Dopo che gli abbiamo Spaccato Quello prima Se ne sono avvicinati due Io non vorrei dire Ma non mi sembra Proprio una coincidenza Dici che Proprio appena Ho capito Abbiamo osato Rompere una delle loro Sculture E si sono arrabbiati C'è un altro Un mistero A parte che mi stavo Spaventando Perché il personaggio Ha il fiatone Correndo Quindi mi sono spaventato E stanco Pensando fossero di nuovo Indigeni Ci sono tipo Dei Container Container Io ogni cosa che vedo Che si muove Mi No 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 Vero No 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 All'inizio era un coniglio Però poi li ho visti All'inizio era un coniglio Quanti sono? Due Due Tre Tre Qua ci ammazzano No non va bene Allora Non va bene questa cosa Vieni No attenta Vieni verso di me No 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 Ma abbiamo l'acqua alle spalle Dove vuoi andare? E magari in acqua non ci seguono Ma secondo me ne sbucano pure dall'acqua Aiuto Aiuto Ok arriva uno Spacchiamo la faccia a questo in fretta Sempre una donna Sempre le donne sono intraprendenti Guardale Guardale Ed è già morta Ok Perché siamo in due Siamo troppo forti Ok Ok perché è buono Non vi avvicinate La maciullo Tu controlla che non arrivi No io la maciullo Faccio capire Che qua Devono avere paura Ma sei troppo arrabbiato Calma Calma Mi spacco tutti Ho paura Non voglio morire Allora uno sta scappando Uno si nasconde dietro le rocce No dobbiamo andare avanti Ce ne dobbiamo andare da sta zona Te lo dico Ce ne dobbiamo andare Ok mi sono portato via Testa e braccia Aspetta si avvicina uno Si avvicina uno Ok Vieni vieni Lo vedi Sì 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 Comunque si sono separati Quindi è un'ottima occasione E noi siamo pur sempre in due Li possiamo distruggere Oddio ma l'hai spaccato proprio eh Certo perché sono arrabbiata Io volevo solo farmi un accampamento Per la prima notte E loro non ci lasciano in pace Possiamo prendere i pezzi Io sai perché li prendo? Sì Perché siccome loro delineano il territorio Con le loro sculture Noi ne facciamo uguali Per fargli capire Guarda che noi vi facciamo fuori Non vi avvicinate Questo territorio è nostro Ho già capito che ti piace questo gioco No perché ascolta Loro ragionano così Quindi cioè per comunicare Devi usare il loro stesso tipo di linguaggio Quindi per contrastare un indigeno Diventi un indigeno Certo perché cosa gli spieghi? Non ti avvicinare Lasciami in pace Non mi sembra che siano molto comprensivi Quello no Quello no C'è una tartaruga Dove la vedi? Qua Carina Che bellina Ma c'è un'altra qua? Ciao Non la uccidere No 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 Le tartarughe Sono una specie protetta Quindi anche se siamo in mezzo agli indigeni Esatto Ma poi il cibo solo per stretta necessità Ok Della serie Se stiamo morendo di fame cacciamo Va bene Mi piace Ma non uccidiamo le specie così Questa che cos'è? Posso prendere? Ah no Hai preso Scusa Pensavo ci fosse qualcosa nella scatola Mi stai prendendo in giro? Sì un po' Allora Mi stai prendendo in giro? Lo so che tu hai paura degli indigeni E del mare Ok Però Se noi Attraversiamo Questo piccolo pezzo di mare Andiamo in quell'isolotta E secondo me siamo davvero molto a sicuro degli indigeni Allora Io prima di seguirti in queste folli idee Voglio vedere cosa c'è qui da questa parte Sì Voglio vedere un attimino 30 secondi a nuoto Su Non devi avere paura Magari c'è qualche squalo Quello può essere un problema Devi farci l'accampamento lì Isola Eh sì Se ci pensi può essere efficace no? Non so se sanno nuotare Quello è il problema Non so se sanno nuotare Secondo me no Vai prima tu Ok Dimmi se c'è qualche squalo E poi ti raggiunga Allora Sono sott'acqua Allora ti dico già che se becco uno squalo Chiudo il gioco Me ne vado per sempre Non tornerò mai più in questa serie Tu cerca di vedere se vedi qualche pinna Perché se mi arriva una squala adesso Muoio d'infarto Ma io ti vedo sempre fermo Guarda che abbastanza lontana Quell'isola Non è una buona idea Ma dove mi vedi? Lì Ah no adesso ti vedo muoversi Ah ok No perché sono arrivato sì Sei arrivato Aiuto fa paura eh Ok Ok io sono arrivato Com'è l'isola? Molto bellina Dai Vieni su Ma è sott'acqua Così vedi E stai più tranquilla No 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 Non voglio vedere Scusate ragazzi Non voglio vedere Ma è peggio vedere solo le onde No io la faccio occhi chiusi Dimmi se sto arrivando Non vedo squali Per ora puoi stare tranquilla No mi viene un infarto Se ve con una squala Mi fa troppo schifo Mi fanno schifo i pesci Vedo una pinna a lontananza Non ci provare Arriva? Non ci provare? Ti morde le chiappe? Io me ne vado Scappa Guarda lo sto facendo occhi chiusi Quindi se arrivo bene Se non arrivo Sei arrivata Sei arrivata Schifo Schifo l'acqua Madonna Sta diventando buio Allora muoviamoci a fare il rifugio Perché Ok Voglio stare tranquilla Almeno per la notte Voglio stare tranquilla Allora abbiamo la guida Che abbiamo rubato a Timmy prima Ok Secondo me ci facciamo Un hunting shelter Quindi un rifugio da cacciatore Ti piace? Addirittura Eh sì è bellino Le cose proprio professionali qua E lo piazziamo Così In modo che abbiamo Vista verso gli indigeni Ok Girati Dovresti vedere Tipo vedi Sì Ok Adesso se tu i materiali Li possiamo aggiungere Sì E vedi abbiamo iniziato a costruire Ci mancano La legna Sette tronchi Ah ah Non ne ho neanche uno Perché in effetti Non abbiamo Distrutto nessun albero Nessun albero Già Arrivo Oh Che bella luce Che fai Ciao Sono rientrato Ti do fuoco Guarda ti do fuoco Vieni qua Vieni qua Ok Hai le foglie almeno No Neanche quelle Non le ho trovate Tu sei una persona inutile Eh basta Devo ammettere che sì Sei una persona inutile Sono stata inutile Aspetta Guarda però Doppio accendino Wow Lucio incredibile Adesso sì che cambia qualcosa Stiamo iniziando a morire di freddo Allora Il nostro personaggio Ha scritto delle note Prima di tutto Vuole ritrovare Timmy No Anche se tu non vuoi Se lo possono ottenere gli indigeni Dai È un peso in più Povero Timmy Poi dice di farci il nostro accampamento Ok Dopodiché dice di trovare un modo Per poter stare più tempo sott'acqua Di sicuro Io non ce l'ho questo Probabilmente perché tu hai notato meglio di me Esatto Quindi sicuramente c'è qualche posto Che possiamo esplorare Solo se possiamo stare Per molto tempo sott'acqua Per la tua felicità Non lo farò mai Te lo dico già Non lo farò mai Il prossimo è il più bello Trovare un modo di andare dentro quel buco gigante che abbiamo visto Cioè io non ci voglio andare lì dentro In ogni caso ci fermiamo così Speriamo che vi piaccia questa nuova serie perché ci piacciono tantissimo anche i giochi survival E questo ci è sembrato il più figo da portare al momento Sì anche perché hanno cambiato un sacco di cose Adesso ci sono le missioni Prima non c'erano Quindi sicuramente ci sono un sacco di cose nuove da fare che ancora non abbiamo scoperto Esattamente In ogni caso prossima puntata cerchiamo di farci un accampamento come si deve Perché questo fa spesso Perché cioè siamo con un accendino in piedi e ci stiamo Congelando Congelando Quindi dobbiamo trovare una soluzione E inoltre esploreremo un po' l'isola Voglio vedere se riusciamo a trovare qualche passeggero Perché questa cosa mi ha incuriosito un sacco Quindi vuoi trovare un po' di cadaveri No ma magari troviamo anche qualcuno vivo Dai vediamo Ok Esploriamo il più possibile Beh ragazzi il video è finito così Se ti sei riusciuto scettici un bel like E se è la prima volta che vedete un nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao